Noi abbiamo apprezzato anche la velocità dell'università nel prepararci un'ipotesi di lavoro abbastanza importante che dovremmo confrontare dopo un primo passaggio in giunta della città di Vallefoglia con la regione, con la provincia che incontro i prossimi giorni e con le banche, le due banche interessate, con il consorzio di bonifica che è uno strumento della regione che è interessato perché è chiaro che costruire un polo tecnologico e scientifico sull'agroalimentare è anche una scuola di alta specializzazione per la formazione di giovani manager molto interessante per il ricambio generazionale nelle imprese perché come si sa gran parte del ricambio generazionale delle imprese ha prodotto una moria di imprese piuttosto rilevante anche in questo territorio quindi soprattutto in un momento come questo mettere insieme l'università, la provincia, la regione, il comune, le banche, gli istituti di credito per elaborare una progettualità diciamo che ci consenta di far diventare anche un punto di vendita diretta dei prodotti di grande qualità un monitoraggio sulla qualità dei prodotti che vanno sulla tavola dei consumatori e un monitoraggio continuo e costante dell'acqua, dell'aria e diciamo questa necessità di collaborare tra i diversi centri come l'università, come le istituzioni, la regione, la provincia eccetera quando si potrebbe cominciare mi sembra una cosa un po' prematura però si può incominciare a vedere se l'ipotesi progettuale elaborata dall'università è un'ipotesi condivisibile dalla regione, dalla provincia, dall'amministrazione comunale, dagli istituti di credito e soprattutto diciamo dalle autorità competenti attraverso le quali noi potremmo avere delle risorse finanziarie parlo dei ministeri competenti soprattutto dei fondi europei per un intervento piuttosto significativo di forte anche riqualificazione di quell'area che oggi è un punto vendita della ex cantina sociale dei colli pesaresi oggi Pisaurum, quindi è un'operazione con una cooperativa, con dei privati e con le istituzioni pubbliche può essere una cosa ottima per tutta la vallata che va, come dico sempre scherzando, da Pisra, Belforto e Lisauro circa 180.000 abitanti Grazie 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 Grazie